Era il 1998 quando Giorgio Macente ebbe l'intuizione di creare un nuovo gruppo di motostaffette. La sua passione e la sua preparazione sul campo, unite al suo carisma, fecero da traino per anni ad un gruppo di motociclisti che corsa dopo corsa si è arricchito di nuovi elementi. Quella idea negli anni ha dato i propri frutti alimentando una realtà che grazie anche alla passione e alla dedizione di Giuseppe Mazon è diventata un autentico punto di riferimento in tema di sicurezza nelle gare ciclistiche. Oggi il GM Bike Team conta ben 44 motostaffette abilitate e sotto la guida di Stefania Chioato con il supporto del suo vicepresidente Nicola Zambon è una delle realtà più importanti in campo nazionale ed internazionale. Per festeggiare questi 25 anni di storia e per onorare il ricordo di chi come Giorgio Macente e Giuseppe Mazon purtroppo non c'è più, il GM Bike Team ha allestito una piacevole serata all'interno della barchessa Leprese di Ponte San Nicolò. Al ritrovo del gruppo padovano erano presenti autorità, sostenitori e gli organizzatori di alcune delle più importanti manifestazioni presso le quali il GM Bike Team presta servizio. Una serata ricca di entusiasmo e di emozioni come ha raccontato ai nostri microfoni la numero uno del team. È una ricorrenza speciale perché è come festeggiare la memoria di due persone meravigliose che sono state il primissimo presidente Giorgio Macente e poi Giuseppe Mazon, il secondo presidente di questa associazione. Sono 25 anni in cui questi ragazzi meravigliosi che vedete dietro di me fanno sicurezza stradale alle gare ciclistiche. È un lavoro difficile, è un lavoro che richiede tanto impegno, che richiede domeniche in giro per le strade sia per arrivare alla gara che per aspettare i ciclisti che per dopo accompagnarli fino a fine gara. È una meraviglia dire che sono 25 anni di storia che facciamo questo lavoro. Qual è il segreto di un team così affiatato e che riesce a garantire un servizio così d'eccellenza in tutte le corse? Allora, il segreto è cambiato nel tempo. All'inizio c'erano queste figure pazzesche che riuscivano ad attrarre su di loro un sacco di persone. Adesso le cose sono un po' cambiate, siamo in tanti, a far parte del consiglio siamo in sette persone, allargato anche di più e quindi ci sono tante forze e c'è tanta coesione. E c'è interesse per il gruppo. L'importante è proprio che l'interesse sia per il gruppo e per l'attività che si sta facendo. Cioè sapere che è un servizio che fai per gli altri. Siamo arrivati a 45 componenti, siamo pronti ad averne anche altri. Cerchiamo di avere una media di 4-5 ragazzi all'anno, non di più, per poterli formare. Vogliamo continuare a fare questa attività per altri 25 anni. A portare il saluto del ciclismo veneto è stato il presidente del comitato regionale Sandro Checchin. È un gruppo, come ce ne sono altri in Veneto, che si occupa delle motostaffette, delle scorte tecniche. Quindi è un servizio fondamentale per la sicurezza delle gare su strada. Vengono anche definiti i cosiddetti angeli dei corridori, gli angeli custodi, perché accompagnano e aprono la corsa prima dell'arrivo del gruppo. Quindi è sicuramente un servizio fondamentale. Ed è un servizio che è cresciuto in questi anni grazie anche ai vari corsi che la federazione ha messo in atto per dare professionalità al loro ruolo. Non ultimo l'aspetto della scorta tecnica, dove in molte gare ciclistiche sostituiscono addirittura la polizia stradale. Anzi, con la polizia stradale c'è anche una simbiosi e una collaborazione che ci fa onore e che ci rende anche partecipi di un lavoro di altissima qualità. Tanti, anche i grandi organizzatori che hanno voluto esprimere la propria amicizia con il GM Bike Team in una serata speciale che ha coniugato la festa con la passione per le due ruote. Siamo con Fabrizio Furlan, presidente del Velo Club San Vendemiano. Anche la sua società si affida alla GM Bike Team per garantire la sicurezza e la regolarità delle proprie corse. Sicuramente il GM Bike Team è una garanzia sulla sicurezza delle gare. Noi già da diversi anni ci appoggiamo alla loro assistenza e con, lo chiamo così, il capitano Nicola Zambon, che abbiamo un rapporto mai di amicizia e ci affidiamo. Ma sicuramente è un team sul quale un organizzatore può contare sicuramente sulla sicurezza. Filippo Scipioni, organizzatore della Vicenza Bionde, un servizio, quello delle motostaffette fondamentale soprattutto su una corsa in linea come la vostra? È fondamentale il servizio della GM Bike, capitanata dalla signora Stefania Chioatto che ovviamente segue il gruppo da parecchi anni. Io ho avuto anche l'onore di conoscere il fondatore Giorgio Macente, un grande personaggio perché si è sempre occupato anche a livello nazionale delle motostaffette, dei corsi e di tutto quello che serviva per organizzare e seguire le gare sempre seguendo i regolamenti e col massimo della serietà. Ci fa piacere essere qui presenti come Unione Sportiva Bionde a questa manifestazione, a questo anniversario che è il loro 25esimo anno di attività e speriamo di vederli ancora alle gare per parecchi anni. Io lo spero vivamente. Gianpietro Bonin, organizzatore della Gran Premio Sportivi di Poggiana anche la Stars Combat si affida da sempre alla GM Bike Team una collaborazione importantissima e preziosa. Sicuramente importante e fondamentale per la sicurezza della gara. Il Gran Premio Sportivi di Poggiana è nato nel 1975 io l'ho preso in mano nel 1993 per cui sono 30 anni e c'era già allora il gruppo di motostaffette Selle Italia guidato dal carissimo Giorgio Macente per cui da allora era già da anni e ho continuato la collaborazione con lui poi sono arrivate le nuove leve e per cui abbiamo proseguito questa collaborazione importante e fondamentale. Mi trovo benissimo con loro, c'è un affiattamento totale per la sicurezza e l'organizzazione della gara per cui spero di continuare con loro per tanti anni. Essere una motostaffetta, fare da scorta tecnica in corsa equivale ad una vera e propria vocazione come ha spiegato ai nostri microfoni il vicepresidente Nicola Zambon. Ci vuole tanta passione oltre che ovviamente per la moto, per il ciclismo e anche per il tipo di servizio che si fa. Come dico sempre, il classico motociclista quando vede brutto tempo chiude la porta e torna a letto noi invece infiliamo l'antipioggia e andiamo a fare il servizio. Quindi è tutto basato sulla passione per questo bellissimo sport. Il vostro lavoro consente a tanti organizzatori di correre più sereni e a tanti ragazzi di esprimersi al meglio sui percorsi magari anche più impegnativi. Per voi invece quali sono le difficoltà maggiori che bisogna affrontare e sfidare a parte il maltempo? A parte il maltempo che fa parte del gioco negli ultimi anni come viene definito il classico a red urbano delle strade è aumentato quindi tra rotatori e spartitraffico e quant'altro non dico che diventa sempre più difficile operare però appunto ci impegna molto. E poi c'è un messaggio da dare agli automobilisti? Sì, annosa questione degli automobilisti di portare pazienza quando vedono appunto la macchina inizio gara e noi con le moto, questione di qualche minuto di accostare e portare pazienza. Si parlava, si parla o si parlava ormai da anni di inserire nelle scuole guida chissà che fine ha fatto questa cosa qua però appunto sarebbe una cosa utile spiegare a chi fa la patente cosa vuol dire appunto quando si incontra o si incrocia un veicolo di inizio gara.